No, non manca tanto ormai! Stiamo andando lì, Daddy! Stiamo andando lì? 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 Lì, 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 lì! No, ma è giusto al di là di questa galleria! Ciao! Arrivali! Dougie, non ci dovevi portare in un posto... Speciale? Sì, questo è il posto speciale per il picnic di Dougie! Beh, immagino che sia piuttosto pittoresco! Panini con la marmellata fatta in casa! Che buoni! Sì, sono davvero buoni! Dougie fa i panini migliori del mondo! È delizioso anche il succo di mirtillo! Bagno! Bagno! Splash! 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 Non insupparti troppo, Abby! Vieni, mamma! Qui dentro si sta benissimo! Non troppo in alto, Norrie! Ma sì, quelli sono... Uccelli beatboxer dal becco grande! Non ne avevo mai visto uno prima d'ora! Che scoperta! Te l'avevo detto, mamma! Oh, sì! Si sta davvero benissimo! Buonissimo! Non è così? Non è niente male! Più in alto! Sì, così! Più veloce! Oh, Dougie! Questa è la miglior scampagnata di sempre! C'è giusto il tempo per un'altra cosa! Un Dougie abbraccio! Dougie abbraccio! Don't be the best! C'è giusto il tempo per un'altra cosa! Grazie a tutti.